buongiorno maestro avete un lavoro da darmi beh sì avevo giusto bisogno di un garzone voglio metterti alla prova lustra bene le uova lustra lustra e stai attento bene bene ehi cosa hai fatto non è niente ma come è possibile è un vero miracolo voglio proprio vedere che peccato porca locca che frittate io devo allontanarmi un momentino va bene va bene maestro tu resta qui a lavorare e pensa servire bene i clienti perché non veni a cercare con noi su vieni dai allora entrò anch'io nel vostro gioco sì sì ok brutto lazzarone sei licenziato meglio gettar via subito la mela marcia prima che marciscono anche le altre avete ragione grazie grazie grazie